3, 2, 1, motore partito Come non detto? Ci siamo? Ci siamo? Certo che ci siamo sempre Noi ci siamo! Che si dice Pier? Tutto bene Come si sta all'assudo tre ore senza scendere mai? Ormai sono entrato completamente nella parte Ma questo è un flowing globe? Ma no, è un piccolino dietro le ponte Un piccolo dietro le ponte Ma non stiamo a fare il video? No, come no? Ah, ecco Ma che cosa succede? Una volta No, vai vai vai, era un momento Sì, sì, alle 10 da buona via però Scriviamo Stop here, si è affermato qua Ma mi ha lasciato pure questo bel pacco di... E non lo sai che c'è, che cos'è? È gioia natalizia Ah, che bello Solubile Solubile Che fortunato, che sei fortunato Grazie E... 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 E' un'altra cosa di vivere E' un'altra cosa per te e per me E' un'altra cosa per te e per me E' un'altra cosa per me E' un'altra cosa per te e 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 per me Per te e per me Per te e per me E' un'altra cosa per te e per me E' un'altra cosa per me Per me